ciao ciao ragazzi come state benvenuti in un nuovo video di ascenso con grazia e spero che stiate molto bene con tutto il cuore questa volta è la cessa del mango lo dico anche se lo chiamo un mango perché il suo nome suona come frutto poi ci occuperemo dell'oro e dei catalizzatori utilizzati per continuare con risorse illimitante va bene andiamo andiamo va bene livello 10 mago è un personaggio molto orribile è un abominio andiamo 30 rango 4 bene bene va bene lo dimostraremo mentre scopriamo come funziona voglio dire che questo video è in questa lingua perché nella diretta di un amico ben già si diceva che non parlo italiano l'italiano è la mia prima lingua di nascita mi sono in nervo sito molto quando ho più visto di 500 spettatori e i nervi hanno giocato a scontro non avevo così tanti spettatori sul mio canale sono chiarito il motivo delle cose anche perché avevo in mente di fare un video in italiano aspettavo tanus bene bene campeone del massimo bene bene dove dove quindi ora vedremo la sua abilità unica chiamata 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 ha fomentato del peccato va bene ogni volta che un tentenamento sul bersaglio giungi naturalmente discadenza mango mango ha una probabilità di 20 20 di ottenere ma uno di odio mentre è inaristabile mango rigenera passivamente e istantaneamente 14 di danni e in golpe in arrivo va bene va bene immunità al debuff squarcio armatura e tutti gli effetti di seguinamento va bene va bene va bene va bene molto testi e molto e molto va bene va bene lo dimostreremo bene andiamo avanti con la promozione Andiamo, andiamo Dove, dove, dove Pronto Allora Pronto Dal aspetto è un personaggio abbastodana I nodi di cavallo hanno fatto sembrare buoni Colpi pesanti Andiamo a provare speciale 2, speciale 2, speciale 2 Scusi, speciale 2, crescita di potere Squarchi armatura Oddio Basto, Dani, basto, Dani Speciale 2, crescita, crescita di potere Andiamo a speciale 1, andiamo a speciale 1 Aspetta, aspetta, aspetta Speciale 1 No, speciale 3, speciale 3, speciale 3 Basto, basto, dani Basto, dani, basto Andiamo, speciale 3 E' più bello E' più bello, speciale 3 Mi piace, mi piace Stresa, strezza E' più bello Non mi piace, non mi piace E' più bello E' più bello E' più bello E' più bello Stresa andiamo speciale 3 è più bello, è più bello, è più bello, è più bello, speciale 3 mi piace, mi piace, mi piace ma basso, danno, basso c'è Stretza Sei cari che te odio Speciale uno sempre accumulare molto odio 3 o 2 Un aumento di crescita di potere fino a due bar Va bene? Anche se non compensa il vaso danno Apparentemente dovrebbero esserci 10 cariche di potere Di odio Di odio Andiamo di nuovo Andiamo di nuovo Andiamo di nuovo Recomincia Andiamo di nuovo Va bene Andiamo 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 con speciale 3 Andiamo con speciale 3 Con 10 cariche di odio 10 cariche di odio Andiamo 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 provare questo Cariche di odio Cariche di odio Crescita di potere Inbloqueabile Tentenante C Estordimento Non 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 Ed Ahah Stretza, andiamo andiamo Si, si 6, 7 7, 7 8 9, 9, 9, 9 10 10 Andiamo, espechale 3 Con 10 cariche di odio Va bene Rigenerazione Inaristabile Tentenante Non male, non male Espechale 1 Più cariche di odio Più, più 7 Speciale 1 7, 7 Crecita di potere è molto buona 9 9, 9, 10 Non blocabile Inaristabile Con 10 cariche di odio Speciale 2 Basso, danno Basso, basso 4 5 5 5, 5 Speciale 3 Pronto 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 13 13 13 13 14 14 14 14 15 14 14 14 14 14 15 15 15 15 Non male, non male! Va bene, dovrebbero esserci 10 cariche di odio e quindi usare lo speciale Due o tre, tre di preferenza Ma non, ma non è un grande danno Che è sempre altamente raccomandato C'è molto lavoro per questo Bene ragazzi, bene bene È un personaggio che sarà utile per la neutralizzazione Solo per quello e per l'immunità, il seguitamento e la demolizione Bene ragazzi, grazie per essere passanti La traduzione è alla fine di questo video Il prossimo video sarà in spagnolo Viamo ragazzi, baci baci, ci vediamo dopo Che è il prossimo video Hasta el próximo video Los quiero